Signori, buongiorno e bentornati sul canale del MasterKai. Io sono il MasterKai e il vostro ospite su questo canale. Una delle cose a cui normalmente non si pensa quando si va a sviluppare una cultura per il proprio mondo, per la propria ambientazione, è che tutte le culture di cui noi abbiamo un esempio nel mondo reale, per quanto possano essere distanti sia nel tempo che nello spazio, essere diverse tra i loro, hanno tutte qualcosa in comune. Sono tutte state create, sviluppate e vissute da esseri umani. Tutti gli esseri umani presenti, passati o futuri in qualsiasi epoca abbiano vissuto o qualsiasi cosa avessero fatto nella loro vita. Sono tutti virtualmente spinti dagli stessi bisogni, hanno tutti le stesse necessità. Fondamentalmente tutte le persone in tutto il mondo, grosso modo, la pensano allo stesso modo sulla maggior parte delle cose. Di conseguenza, tutte le culture che si sono sviluppate nel mondo reale, si sono sviluppate dagli stessi tasselli per soddisfare le stesse necessità fondamentali. Non necessariamente però questo è vero anche per la vostra ambientazione e anzi, molto probabilmente un'ambientazione fantasy, un'ambientazione di fantascienza, ma anche un horror metropolitano, qualcosa del genere, conterrà creature che non solo non sono umani, ma possono avere una mentalità e anche proprio una biologia diversa dagli esseri umani e di conseguenza le loro culture dovrebbero essere sviluppate partendo proprio da queste differenze fondamentali. Cominciamo subito col dire che andare a spiegare come le civiltà sono nate e si sono evolute sul nostro pianeta, è un discorso incredibilmente vasto, si parla di interi cicli di studi universitari, va al di là dello scopo di questo canale, quindi non vi aspettate che quello che io dico in questo video aveva qualche valore storico. Quelli che farò sono semplicemente degli esempi per spingervi a riflettere su come voi dovreste sviluppare le vostre culture nella vostra ambientazione. Cominciamo con una di quelle cose che è talmente scontata che proprio per questo molte volte non viene presa in considerazione. Gli esseri umani sono creature onnivore mammifere. Questo ha permesso agli esseri umani di colonizzare virtualmente qualunque ecosistema e qualunque bioma presente sul nostro pianeta, non dipendendo da una fonte di cibo specifica e potendo mantenere la biochimica interna indipendentemente dalla temperatura esterna, anche con un supporto tecnologico molto limitato o nessuna tecnologia del tutto, gli esseri umani sono riusciti ad adattarsi per trovare da mangiare e da vivere praticamente ovunque sul pianeta. Creature diverse, diciamo dei grossi rettili carnivori come potrebbero essere i classici uomini lucertola del fantasy non avrebbero questi vantaggi. Essendo rettili avrebbero bisogno sempre di una fonte di calore esterno per poter mantenere la temperatura e quindi digerire il cibo che mangiano. Di conseguenza finché non avessero sviluppato un modo per riscaldare l'ambiente non potrebbero spingersi al di fuori di quegli ambienti che hanno già una temperatura per loro ideale e essendo carnivori avrebbero bisogno di una zona molto più vasta per coltivare il loro cibo. Non vi dimenticate che per allevare una mucca serve tutto lo spazio della stalla più tutto lo spazio del campo di biada ad andare a mangiare la mucca. Potendo vivere solo in zone già di per sé calde e con o vaste pianure da poter destinare ad agricoltura e pascolo o in zone che hanno un enorme quantità di biomassa per chilometro quadrato come le giungle più fitte, gli uomini lucertola fino a quando non avessero sviluppato un minimo di tecnologia non avrebbero potuto espandersi al di là di queste aree e una volta che lo avrebbero fatto una volta che gli uomini lucertola avessero inventato il fuoco e i vestiti per potersi spostare in zone più fredde le avrebbero comunque già probabilmente trovate colonizzate da esseri umani che si sono trasferiti lì molte molte generazioni prima e che ora probabilmente avendo bisogno di meno spazio per coltivare il loro cibo e di meno supporti tecnologici per sopravvivere l'ambiente li batterebbero il numero di decine a uno. Non sottovalutate questo fatto, potendo mangiare direttamente i vegetali senza prima farli mangiare ai nostri animali, gli esseri umani possono avere un'efficienza delle coltivazioni molto superiori e di conseguenza avere proprio una densità della popolazione molto alta in una zona ristretta. Anche questa è una cosa a cui molto spesso non si fa caso perché noi diamo per scontato che gli esseri umani abitano nelle città ovunque nel mondo dalle grandissime metropoli ai piccoli villaggi gli esseri umani costruiscono le loro casette una vicino all'altra. Questo però è possibile solo se la gente che vive in quel posto ha abbastanza spazio per coltivare da mangiare per gli abitanti della città. Creature che avessero bisogno di più spazio per le coltivazioni o che fossero limitati a qualche tipo specifico di cibo non potrebbero radunarsi in grossi numeri nello stesso posto senza evitare di morirsi di fame e anche in quel caso o avrebbero dovuto sviluppare tecnologie sempre più avanzate o i loro insediamenti dovrebbero essere necessariamente molto più piccoli di quelli degli esseri umani. E questo vale anche per gli esseri umani stessi. Noi adesso possiamo avere megalopoli con milioni di abitanti solo perché i nostri sistemi agricoli moderni permettono la produzione di una quantità enorme di cibo ma la resa delle culture già solo nel medioevo era drasticamente più bassa e di conseguenza una volta le città anche umane erano comunque molto più piccole di quello che sono oggi. Questo discorso però si può fare anche al contrario. Creature più piccole degli esseri umani o che richiedessero per qualsiasi motivo meno cibo o nessun cibo del tutto potrebbero radunarsi in masse molto più grandi in zone molto più ristrette. diciamo che data la stessa quantità di terreno agricolo un villaggio alfling potrebbe contenere il doppio degli abitanti di un villaggio umano nelle stesse dimensioni e questi numeri potrebbero crescere ancora se la disponibilità di cibo fosse molto più alta rispetto a quella che è possibile per gli esseri umani che comunque hanno bisogno anche di allevamento e non possono mangiare qualsiasi tipo di vegetale ma restiamo nell'ambito fantasy creature come i goblin che vengono descritte in grado di digerire fondamentalmente di tutto. No fidatevi voi non volete sapere cosa mangiano i goblin potrebbero essere in grado di creare insediamenti stabili in zone in cui per gli esseri umani non sarebbe possibile farlo. Tra l'altro è qualcosa di classico che ci siano enormi comunità di goblin nelle paludi o in grotte sotterranee dove per un essere umano ci sarebbe pochissimo cibo e poi in mente neanche una comunità di qualche decina di persone riuscirebbe a sopravvivere. Un'altra considerazione dovrebbe essere fatta per la durata media della vita. Un essere umano nel mondo reale vive più o meno un'ottantina d'anni anche se questo è influenzato dal livello di sviluppo e la scienza medica si viveva di meno in passato è probabile che si vivrà di più in futuro. Anche in questo caso però sia il fantasy che la fantascienza sono pieni di specie di razze che possono vivere molto ma molto di più e anche di creature che ne vivono molto ma molto di meno. Anche questo va a influenzare la cultura. Prendiamo il classico elfo idnd una creatura che può vivere in media 7-800 anni. Diciamo che un anziano elfo che avesse 800 anni nel 2020-2021 sarebbe nato grosso modo quando Federico II è stato eletto imperatore del Sacro Romano Impero. Da ragazzo intorno ai 100-120 anni avrebbe assistito in prima persona alla guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra e intorno ai 270 anni quando cominciava ad affacciarsi alla vita adulta Colombo avrebbe scoperto l'America. Probabilmente il suo atteggiamento nei confronti della storia sarebbe molto diverso dato che per lui avvenimenti relativamente recenti fanno parte della nostra storia medievale. Ma anche nella vita di tutti i giorni il suo atteggiamento sarebbe radicalmente diverso rispetto ai suoi compagni umani avventurieri. Per il guerriero umano del suo party fare il guerriero avventuriero per 20 anni è una significativa scelta di vita che si porterà dietro fondamentalmente per tutta la sua carriera lavorativa da adulto. Quella sarà la sua professione e quello che farà nella vita. Ma quei 20 anni di vita di avventuriero per l'elfo sarebbero come per un umano passare un paio d'anni a fare l'interrail, magari studiare qualche anno all'estero con l'Erasmus. Qualcosa sì ti porterà dietro i ricordi per tutta la vita ma non cambierà radicalmente la tua vita. Sarà qualcosa che ti è successo da giovane prima che la tua vita adulta fosse realmente iniziata. Ci sono anche aspetti sociali diciamo più limitati ma che comunque dipendono da dei fattori biologici negli esseri umani. Negli umani come rata nella maggior parte dei mammiferi il maschio tende a essere più grosso e robusto della femmina e a cercare di attrarre la compagna tramite sfoggio di abilità. Mentre la compagna cerca di attrarre il maschio sfoggiando bellezza e salute fisica. Questo è il motivo per cui i caproni fanno attestate e i tamarri da discoteca fanno attestate. Questo però non è un fatto universalmente accettato in tutte le specie di viventi. Anzi negli uccelli per esempio vale il contrario. Negli uccelli il maschio cerca di attrarre compagne mettendo in mostra la propria bellezza fisica. Avrete notato che il dimorfismo sessuale negli uccelli è molto maggiore di quello che c'è negli esseri umani. Pensate anche solo alla differenza che c'è tra il gallo e la gallina e ci sono anche casi estremi come il pavone il cui maschio è ricoperto di colori videscenti e ha un'enorme coda per mettersi in mostra. La femmina del pavone sembra un fagiano grigiastro. Negli uccelli però e in altre specie o vipare altre specie che fanno le uova sono le femmine che tendenzialmente sono più grosse dei maschi appunto perché devono poter contenere le uova. Se riportiamo tutto questo a come una società potrebbe essersi sviluppata partendo da queste tendenze, molti gli stereotipi della nostra società potrebbero essere specchiati in una società di creatura aviane come gli arcoa o i rapacidi in cui lavori pesanti o l'attività militare che richiedono grande sforzo fisico siano considerate attività da donne mentre gli uomini ricercano vestiti profumi e gioielli e vengono presi in giro per il fatto di essere tutti divanesi. Magari i maschi di quelle specie potrebbero proprio essere anche molto più appariscenti delle femmine, ostentare gozzi, piume colorate, creste sul becco o cosa del genere. E magari per quella specie potrebbe esserci un problema interagire con le altre perché abituati alla loro struttura sociale messi di fronte a un essere umano non sarebbe così immediato per loro capire se stai parlando con un maschio o una femmina di umano perché sono virtualmente identici rispetto ai loro standard. Ovviamente questa non vuole essere una lista omnicomprensiva anzi vi deve semplicemente servire da riferimento e da spunto di riflessione per come andare a sviluppare le vostre culture non umane nella vostra ambientazione. Questo sia a livello di world building come funzionano i popoli come funzionano le nazioni ma anche a un livello microscopico. L'asteggiamento dell'intera cultura si riflette anche sul singolo PNG. Come si comporterà il PNG elfo, il PNG goblin, il PNG alieno nei confronti di queste creature totalmente diverse da lui che sono gli esseri umani? Ora sta a voi scrivermi effettivamente come vi siete regolati a fare cose del genere scrivetemelo qua sotto nei commenti, scrivetemi come sempre anche eventuali domande, dubbi e curiosità. Se il video vi è piaciuto lasciate un like che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.